La partita giocata nel primo tempo, avete un po' atteso, nel secondo tempo dopo il non gol annullato a Lentigione si è trasformata la squadra, complice anche i cambi che le hai effettuati in avanti. Credo che nel primo tempo abbiamo fatto una partita molto equilibrata, loro hanno attaccato alti come noi, ci siamo un po' annullati a vicenda, anche se comunque sia noi che loro abbiamo provato a giocare, loro hanno trovato sto gol su questa indecisione, uscita o non uscita e col difensore sono stati bravi a far gol, però vedevo che comunque la nostra squadra poteva comunque riuscire a ottenere il pareggio, abbiamo secondo tempo credo che abbiamo giocato una metà campo solo e abbiamo fatto gol, potevamo farle altri, quindi sicuramente una grandissima risposta, l'ennesima, c'è stato un punto e abbiamo un pizzico di rinamarico perché veramente nel secondo tempo è stata una partita veramente a quasi senso unico. Nel finale avete dato l'impressione di avere anche qualcosa in più sul piano fisico? Non so, sicuramente avevamo preso il campo e quindi dopo riuscivamo a essere incisivi almeno ad arrivare nella loro metà campo, dopo qualche rifinitura, qualche conclusione, anzi parecchie conclusioni e non siamo riusciti a fare un altro gol, però ripeto, riuscire a venire a Rintigione e riprendere il risultato è sicuramente un'ottima cosa.